Sì, sì, adesso dovrebbe essere così, vediamo che cosa può fare. Perché in questo caso dovrebbe tenere insieme D'Alema che odia Renzi, Bersani che odia Renzi, Civati che odia Renzi. Minchia. Ma lei dopo le elezioni dovrà allearsi con Renzi? Minchia, sì. Quindi lei vuole mettere insieme tutti quelli che odiano Renzi per poi allearsi con Renzi? Oh, minchia. E come si chiamerà questa formazione di sinistra? Non lo so, a questo punto minchia.